Si divertivano e io mi buttavo sempre in mezzo alla pista per ballare, il mimo mi prendeva per le orecchie perché ero troppo basso, non è che ora sia altissimo però diciamo che ero ancora alto e quindi non potevo ballare e mi portavano via e mi facevano sedere. Allora mia mamma ha detto mio padre ma non è che questo vuole ballare, vuole fare il ballerino e ho fatto proprio ok facciamoglielo fare proviamo. Ho cominciato all'età di 5 anni con l'età di latino americano e non mi sono fermato. Mi ricordo che lui ha all'età di 11 anni, ha vinto un campionato italiano di classe B1 latino americano, quindi è stato pure il campionato italiano. Non è che lui abbia vinto, è un pomeriggio che ha vinto. No 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 no! Allora, questo è il primo trofeo dance in print che viene consegnato, se si vuole, se si si, in assoluto.